ciao benvenuti in questa piccola rubrica di macro fotografia da casa oggi vi parlo del focus stacking o meglio di come impilare le foto che avete realizzato con la tecnica del focus stacking perché questo perché molti di voi mi scrivono e mi chiedono come faccio mario ad impilare le foto che ho realizzato che programmi uso che metodo bisogna utilizzare per avere un buon risultato beh niente di più semplice ve lo faccio vedere in due minuti velocemente utilizzando due semplici programmi che quasi tutti quanti voi avete a casa allora chiudiamo velocemente la cam che adesso non ci serve e passiamo direttamente al primo programma che è lightroom lightroom lo utilizziamo tutti quanti per far cosa per post produrre le nostre immagini e voi mi chiederete ma perché devo utilizzare prima lightroom e non posso impilare subito le foto non so con elicon focus o con serene stacker perché ve lo spiego velocemente voi scattate in raw la maggior parte di voi almeno tanti scatteranno in tiff però la maggior parte di voi scattano in raw scattano immagini che praticamente non hanno nulla nulla nel senso stretto inteso come modifiche o post sproduzione allora i programmi che impilano le fotografie solitamente hanno bisogno di riconoscere determinate cose cosa vanno a riconoscere zone poco nitide da zone nitide e zone di passaggio di contrasto se noi diamo a questi programmi delle foto che hanno poca differenza tra zone nitide zone a fuoco o passaggi di contrasto i programmi faranno più fatica di impilare nei nostri scatti e quindi darci un buon risultato io cosa faccio passo velocemente in lightroom come vi posso far notare qui c'ho sei fotografie non sono tutte uguali ma sono sei stacking questa è la prima se guardiamo direttamente alla sesta vedete la grossa differenza che c'è tra la prima di nuovo eccola qui e la sesta benissimo io cosa faccio su lightroom non tocco niente non modifico non taro il bianco non vado a toccare colori luminosità niente l'unica cosa che faccio in tutti i miei stacking praticamente vado a mettere un po di nitidezza non esagero perché non c'è bisogno di esagerare ma gliela do perché perché adesso vado ad esportare queste immagini con questa unica post produzione che ho fatto c'è l'aumento della nitidezza questo sarà utile al nostro programma che in questo caso almeno nel mio caso è zerene stacca a riconoscere in maniera ben distinta le zone nitide dalle zone meno nitide e i passaggi di contrasto aiutandolo ad impilare in maniera corretta le mie fotografie benissimo per fare velocemente vi dico subito che ho esportato tutte le foto in tiff perché zerene legge il tiff esempio alicon focus legge anche il raw però va benissimo anche il tiff visto che un file non compresso bene adesso passiamo direttamente al nostro zerene eccolo qui io qui ho le sei fotografie che avevo di là alle quali ho dato la mia piccola post produzione di aumento di nitidezza e ho già anche lanciato il focus stacking perché ho già lanciato la procedura perché ci impiegava un po di tempo allora vi faccio notare che qui a destra c'è il risultato finito qui a sinistra vengono caricati i preview delle sei fotografie che ci sono allora questo è il risultato terminato andiamo a aprirne una a caso di qua come potete ben vedere l'interno della goccia in questa prima foto è completamente sfocato mentre ho tutta la parte qui della fogliolina bella nitida che è riportata dalla parte di qua dove c'è l'elaborazione dello stacking se prendo esempio l'ultima foto qui dove c'è la parte proprio nitida interna la goccia però potete notare che la parte della fogliolina è abbastanza sfocata invece di qui l'impilamento mi ha dato nitida la goccia nitida all'interno della goccia nitida anche tutta la parte della fogliolina qui ovviamente queste sono sei foto avessi fatto uno stacking da 20 30 40 avrei avuto questa profondità di campo di nitidezza fino in fondo benissimo fatto questo cosa si fa da zerene non si fa altro che esportare il nostro file ovviamente in tiff si torna in lightroom e non faremo altro che andare ad elaborare il nostro file come facciamo sempre praticamente questo eccolo qui ho importato l'immagine come potete vedere non sono più sei ma sette la prima è il risultato che avevo di line in zerene adesso fate quello che fate di solito quindi tarate pure il bianco andate a aumentare luminosità andate il colore tutto quello che volete che fate voi di solito a casa l'importante è che adesso non esagerate perché avete già dato prima un tocco di nitidezza non esagerate andando ad aumentare nitidezza e rapporti di contrasto perché sennò comincerebbero venire fuori dagli artefatti benissimo salvate il vostro file in jpeg come meglio preferite avete realizzato l'impilamento delle vostre fotografie bene vi saluto spero di essere stato conciso se ci sono domande scrivetemi come sempre che vi rispondo in privato ciao e buona giornata a tutti